Quaderni, fogli, protocollo, penne e pennarelli, matite, album da disegno, gomme da cancellare, tempera matite, astucci, zaini, diari e tutto ciò che può servire tra i banchi di scuola per affrontare il nuovo anno scolastico appena iniziato, potrà essere utile per aiutare le famiglie in difficoltà. La parrocchia di San Marco Evangelista infatti, su iniziativa del gruppo catechistico ACR Parrocchiale, organizza per questo weekend, cioè nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, una raccolta di materiale scolastico. Spesse volte questa raccolta è stata estesa anche a vari gruppi della stessa parrocchia, ma principalmente alle famiglie della parrocchia. Sarà questa giornata particolare, questo evento sarà il giorno 24 e 25 settembre, dove chi vuole può portare questo materiale che poi sarà donato a questi enti, tipo la Caritas, tipo Sant'Agara, la parrocchia Sant'Agara con la sua associazione o altre associazioni che si appoggiano a noi per questo tipo di iniziativa. L'invito è rivolto a tutti quanti perché penso che questo spirito solidale che noi abbiamo, specialmente il Nisseno, da alcuni anni sta veramente incrementando questo stile nuovo di mentalità, di apertura verso gli altri. E quindi questo potrebbe essere anche un'altra prova di solidarietà che ogni Nisseno vuole contibire portando proprio questi articoli riguardanti la scuola.